Ciao, sono Gaspal Singh, e-commerce specialist, e in questo video vedremo come realizzare un e-commerce personalizzato e professionale con Shopify in meno di 30 minuti, anche se non hai delle conoscenze di programmazione o delle conoscenze di web design. Per fare questo andiamo all'interno di it.shopify.com e vediamo che ci viene mostrata una schermata iniziale. Shopify è una piattaforma di e-commerce online che ti permette di realizzare e gestire il tuo sito e-commerce in maniera semplice, veloce e senza delle conoscenze di programmazione o delle conoscenze tecniche particolari. È una piattaforma studiata da imprenditori per imprenditori. In questo video ti guiderò in ogni fase del processo per realizzare un e-commerce da zero, quindi come aggiungere prodotti, come personalizzare il design, la grafica del tuo sito, selezionare le opzioni di spedizione, aggiungere un dominio personalizzato e molto altro. Alla fine di questo breve tutorial avrai un e-commerce funzionante in grado di ricevere ordini e pagamenti. Grazie a Shopify potrai realizzare il tuo e-commerce da zero utilizzando la versione gratuita, quindi 14 giorni di prova gratuita che ti mette a disposizione Shopify. Per utilizzarli andiamo all'interno appunto del sito di Shopify, inseriamo la nostra e-mail e clicchiamo su inizia. Scegliamo una password, scriviamo il nome del negozio che vogliamo creare, quindi per esempio Trendy Store Italia nel nostro caso. Creiamo il negozio, aspettiamo che appunto venga realizzato il negozio da Shopify e una volta che ci mostra questa schermata di Shopify inseriamo i nostri dati, i dati appunto del nostro negozio. In questo caso inseriremo a titolo esemplificativo dei dati generici e clicchiamo su Enter My Store. Effettuato questo siamo all'interno del nostro store di Shopify, quindi abbiamo appena creato il nostro store e abbiamo davanti a noi la nostra dashboard. La dashboard ti permette di avere una panoramica generale su tutte le impostazioni di Shopify e ti permette attraverso questa iconcina a sinistra di visualizzare il tuo store. Quindi basta cliccare sull'icona e vedremo il nostro store in anteprima. Ovviamente per chi accede che non è loggato all'interno non potrà vedere il nostro store in quanto sarà protetto da password, quindi se noi per esempio utilizziamo questo link e apriamo una schermata in incognito per vedere come vedranno gli utenti, vedremo che lo store Shopify vi è protetto da password, quindi non è visibile, non si può accedere in questa fase, proprio perché stiamo effettuando lo sviluppo. Per vedere, per iniziare a sviluppare il nostro sito, la prima cosa da fare sarà inserire e aggiungere dei prodotti. Per fare questo andiamo all'interno della scheda Products a sinistra e clicchiamo su Add Product. Una volta cliccato su Add Product possiamo inserire il titolo del prodotto, quindi per esempio nel nostro caso maglietta, quindi inseriamo per esempio una descrizione generale. Vediamo all'interno della nostra descrizione che possiamo inserire diversi elementi di formattazione all'interno del testo, quindi possiamo inserire l'elenco puntato e tante altre cose. E quindi possiamo inserire una descrizione che sia corposa e completa, che abbia tutte le informazioni necessarie per sviluppare, per far conoscere il nostro prodotto ai nostri clienti. Una volta effettuato questo possiamo inserire un'immagine, quindi clicchiamo su Upload Image e selezioniamo un'immagine del nostro prodotto. In questo caso prendiamo per esempio la maglietta rossa, possiamo aggiungere anche una seconda immagine, quindi per esempio una maglietta gialla perché avremo lo stesso prodotto in due varianti. E successivamente nella scheda pricing possiamo inserire il prezzo, quindi possiamo inserire il prezzo di listino e un prezzo comparativo. Il prezzo comparativo è il prezzo precedente più alto oppure se vogliamo mettere il prodotto in saldo è il prezzo che appunto aveva il prodotto prima dello sconto, prima del saldo. Quindi possiamo mettere ad esempio 20. Successivamente nella scheda inventory, cioè nella scheda di magazzino, possiamo inserire l'SKU che è l'unità del prodotto di gestione all'interno del magazzino oppure un codice a barre. In aggiunta possiamo decidere se gestire l'inventory, quindi se gestire il tracciamento appunto del magazzino, delle quantità magazzino oppure non gestirlo. In questo caso decidiamo di gestirlo e inseriamo la quantità del nostro prodotto che abbiamo a magazzino. Lasciamo uno che è attualmente appunto a titolo esemplificativo e poi successivamente possiamo decidere anche se consentire agli utenti di effettuare il backorder, cioè di effettuare dei preordini quando questa quantità va a zero. Quando vengono ordinati tutti i prodotti all'interno del catalogo e quindi la quantità scende a zero, il prodotto sarà sold out, non sarà più possibile ordinarlo se non lasciamo il check, se non lasciamo il flag su questo elemento. Se invece mettiamo il flag, in quel caso sarà possibile ordinare il prodotto, quindi preordinarlo. Successivamente nella scheda shipping possiamo decidere se il prodotto richiede una spedizione. In questo caso, essendo un prodotto fisico, lasciamo il flag sulla richiesta di spedizione. Se fosse un prodotto digitale, invece, possiamo togliere il flag in quanto non richiede una spedizione fisica. Nel nostro caso richiede una spedizione fisica, possiamo mettere il peso del nostro prodotto. Il peso deve essere comprensivo appunto anche del packaging, quindi il peso complessivo, e mettiamo a titolo esemplificativo appunto mezzo chilo. Successivamente nella scheda variants possiamo inserire le varianti del prodotto, cioè per esempio nel caso della maglietta le diverse taglie oppure i diversi colori. Clicchiamo su add variant e inseriamo come prima variante la taglia. Inserita la taglia, possiamo inserire i valori di quella proprietà, di quella variante, quindi in questo caso le varie taglie separate dalla virgola. In questo caso inseriamo S, poi inseriamo la M, L e XL. Successivamente possiamo anche inserire un'altra variante che è il colore, quindi possiamo inserire per esempio il rosso, virgola, e il giallo, che sono le due immagini che abbiamo inserito in precedenza. Una volta inserite le proprietà, le varie varianti, ci sarà questa tabella che ci mostrerà le varie tipologie di prodotti, le varie varianti, e potremo inserire per ciascuna variante, quindi in base al taglio e al colore, in base alla taglia e al colore, potremo inserire il prezzo ed eventualmente un codice a barre e la quantità a magazzino. In questo caso inseriamo la quantità a magazzino di ciascuna variante del prodotto, facciamo a titolo esemplificativo 10, e abbiamo quindi inserito 10 elementi di quella variante a magazzino, quindi abbiamo 10 della quantità della maglietta rossa con la taglia S, 10 maglietta gialla con la taglia S sempre, e tutte le altre e così via. Clicchiamo su Save Product. Una volta cliccato su Save Product avremo salvato le nostre impostazioni, questo ci permetterà anche di assegnare a ciascuna variante del nostro prodotto un'immagine che è appunto dimostrativa, che mostra com'è quella tipologia di prodotto. In questo caso la maglietta di colore rosso avrà l'immagine della maglietta di colore rosso che abbiamo caricato in precedenza, e invece la maglietta di colore giallo avrà appunto l'immagine che abbiamo caricato successivamente. Per caricare in maniera veloce tutte le altre varianti possiamo selezionare per esempio tutte le magliette di colore rosso, tutte le varianti con il colore rosso, cliccare su Bulk Action e fare Update Image, selezionare appunto la maglietta rossa e cliccare Save. Stessa cosa per le magliette gialle, quindi Bulk Action, Update Image e maglietta gialla. In questo caso abbiamo salvato anche le immagini per ciascuna variante, quindi ciascuna appunto tipologia del nostro prodotto. Successivamente nella scheda Search Engine vediamo invece le impostazioni SEO, quindi le proprietà in Meta Title e in Meta Description utilizzato per l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Questi vengono generati in automatico sulla base del titolo e della descrizione che abbiamo utilizzato all'interno del prodotto e possiamo anche eventualmente modificarlo inserendo qualcosa che magari sia un po' più completo e un po' più corposo e abbia le parole chiave per l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Quindi possiamo inserire Scopri la nostra maglietta uomo puro cotone. Successivamente prima di cliccare su Save inseriamo anche la tipologia di prodotto, in questo caso Product Type la nostra è una maglietta, il venditore e il vendor è appunto il fornitore o il produttore del prodotto, lasciamo Trendy Store e le Collection invece sono dei raggruppamenti di prodotti che hanno delle caratteristiche in comune. In questo caso questi gruppi di prodotti non andremo a inserirli perché abbiamo già un gruppo di prodotti che è la Homepage, quindi la Collection che viene utilizzata per mostrare i prodotti nella Homepage. Utilizziamo questa qui che va già bene, poi possiamo inserire anche dei tag. I tag servono appunto per organizzare in maniera più intelligente i prodotti che abbiamo all'interno del nostro catalogo e-commerce. Qui possiamo inserire diversi tag come per esempio Economico, seguito, separato sempre dalla virgola e Manica corta, quindi oppure Giallo, Rosso, Maglietta. Anzi, piuttosto che Maglietta inseriamo T-shirt, così utilizziamo un sinonimo che viene ricercato dagli utenti. Poi successivamente possiamo dare appunto la visibilità al nostro prodotto selezionando su Manage Online Store. Se non vogliamo renderlo visibile perché ci stiamo ancora lavorando, possiamo togliere il flag su Online Store e cliccare su Done, ma nel nostro caso vogliamo renderlo visibile, quindi selezioniamo Online Store e clicchiamo su Done. Possiamo anche settare una pubblicazione successiva, quindi una pubblicazione in una data che appunto sarà successiva rispetto alla quale stiamo realizzando, quindi possiamo scegliere di pubblicarlo in una data successiva e cliccare su Save. Una volta cliccato su Save possiamo vedere su View come compare il nostro prodotto. Vediamo che il nostro prodotto in questo caso ha le varie taglie che abbiamo inserito, i vari colori e le due varianti, quindi quando selezioniamo il colore giallo ci verrà mostrata appunto la maglietta gialla. Successivamente dopo aver fatto questo, un aspetto molto importante è tornare su tutti i prodotti e magari compilare e inserire più prodotti in modo tale da vedere in maniera più strutturata come comparirà il sito. Ora che abbiamo inserito gli altri prodotti abbiamo una struttura di catalogo molto più completa, abbiamo 5 prodotti complessivamente che abbiamo inserito a titolo esemplificativo. In questo caso cliccando sull'iconcina per vedere come compare il sito vediamo subito che appunto il nostro sito e-commerce ha una struttura molto migliore perché ha molti prodotti, insomma è quasi completo, però il design non ci piace molto. In questo caso per andare a modificare il design, l'interfaccia grafica, l'aspetto di un sito e-commerce all'interno di Shopify bisogna andare a modificare il tema. Il tema è l'interfaccia grafica appunto, quindi è l'aspetto come compare il sito da un punto di vista dell'utente. Per fare questo andiamo all'interno di Online Store e clicchiamo su Teams. Teams in questo caso vediamo che Shopify durante l'installazione ci assegna il Team Debut come tema standard e per scegliere un altro tema dobbiamo cliccare su Shopify Team Store, quindi Visit Team Store. Una volta che siamo all'interno del Team Store possiamo andare a scegliere un altro tema. In questo caso noi essendo l'e-commerce nostro del settore fashion e abbigliamento clicchiamo su Industria e Clothing Fashion e selezioniamo un tema gratuito. Possiamo scegliere tante altre opzioni, però nel nostro caso come esempio scegliamo un tema di tipo gratuito. Questo tema per esempio è molto interessante. Clicchiamoci sopra, vediamo un attimino i dettagli. Possiamo vedere una demo cliccando su View Demo, quindi possiamo vedere esattamente come compare quest'interfaccia grafica. Vediamo che ha tutte le caratteristiche che ci servono, quindi ha uno slider in alto, uno slideshow e poi ha i prodotti in basso e ha una grafica piuttosto minimal, ma comunque molto interessante per noi. Per utilizzarlo in questo caso clicchiamo su Add Team e vediamo che Shopify ci dice se vogliamo aggiungerlo al nostro Trendy Store Italia, quindi clicchiamo su Publish as My Stores Team. In questo caso aspettiamo che Shopify inserisca il tema all'interno del nostro account, all'interno del nostro store e poi possiamo andare all'interno del Team Manager. All'interno del Team Manager vediamo come attualmente abbiamo il tema appunto minimal installato e per personalizzarlo andiamo all'interno di Customize. Customize ci permette di personalizzare il tema, così vediamo anche un'anteprima sulla destra di come compaiono i nostri prodotti all'interno appunto del nostro sito e-commerce e vediamo che ha uno slideshow iniziale e ha anche il logo da personalizzare. Vediamo all'interno a sinistra invece del nostro Customize perché possiamo personalizzare veramente tanti aspetti come per esempio i colori, dei pulsanti, del background, possiamo personalizzare il font, quindi i caratteri utilizzati e possiamo anche andare appunto a personalizzare le cose principali. Nel nostro caso partiamo innanzitutto personalizzando il logo, quindi clicchiamo all'interno di Header e poi selezioniamo l'immagine all'interno della scheda logo facendo riferimento alle dimensioni che ci vengono indicate che ci vengono raccomandate, quindi 450x200 pixel. Selezioniamo un'immagine, clicchiamo su Upload Image e scegliamo l'immagine del nostro logo. Una volta scelta l'immagine vediamo già un'anteprima sulla destra e quindi possiamo cliccare su Save. In questo caso abbiamo salvato quindi il nostro logo e possiamo andare a modificare invece la parte successiva che era lo slideshow. Lo slideshow, in questo caso abbiamo diversi slider e che vengono ruotati automaticamente grazie a questo flag, quindi possiamo lasciarlo selezionato se abbiamo più di un slide, però a noi non interessa inserire più di un slide, quindi cosa facciamo? Andiamo a eliminare il slide 2 e il slide 3. Andiamo invece a modificare lo slide 1 selezionando un'immagine che sia adeguata delle dimensioni corrette e una volta selezionata e caricata possiamo vedere come anteprima come il nostro sito e-commerce sta prendendo un corpo e una struttura adeguata. Clicchiamo su Select e andiamo avanti, poi ci sono altre opzioni che ovviamente si possono modificare come per esempio l'intervallo temporale tra uno slide e l'altro che però riguarda quando hai più di uno slide. Andiamo indietro e successivamente vediamo che c'è anche del testo in basso. Quindi questo testo possiamo andare a modificarlo cliccando su Rich Text. Inseriamo per esempio un titolo, quindi un titolo che sia adeguato appunto per la home page, accattivante per gli utenti che entrano e inseriamo anche una breve descrizione che sia adeguata. Possiamo scegliere delle dimensioni, quindi scegliamo Large per aumentare le dimensioni del testo e poi clicchiamo su Save. In questo caso vediamo che appunto il testo viene salvato e il nostro sito ha un corpo molto più definito. Vediamo poi all'interno del nostro sito e-commerce che c'è un footer, quindi un piedi pagina che non ha tutte le informazioni necessarie. Vediamo qui nella sezione footer che possiamo modificarlo. Innanzitutto ha un menu e possiamo assegnargli il main menu che è il menu che c'è in alto, quindi con i vari elementi che andremo successivamente a inserire in alto. Gli diamo un nome differente, quindi menu, e poi vediamo delle icone social che possiamo inserire qui che non si possono modificare qui, ma nel general setting. Abbiamo successivamente necessità anche di inserire dei contatti di riferimento del nostro sito e-commerce in modo che siano sempre visibili, quindi clicchiamo su Add Content e clicchiamo su Text. In questo caso scriviamo Contattaci e inseriamo i nostri contatti di riferimento all'interno. Clicchiamo su Save, così abbiamo salvato tutte le modifiche che abbiamo effettuato e successivamente torniamo su General Setting e andiamo su Social Media per inserire appunto le icone social dei nostri profili social. Inseriamo quindi all'interno i nostri profili social, quindi gli indirizzi web dei nostri profili social. I campi che verranno compilati quindi per i social network dove ci sarà un link a un profilo verranno mostrati, gli altri invece no. In questo caso abbiamo compilato Twitter, Facebook, YouTube e Instagram e quindi abbiamo le quattro iconcine e clicchiamo su Salva. Una volta cliccato su Salva appunto adesso abbiamo completato le modifiche al nostro tema. Per vedere come compare il nostro tema clicchiamo sempre sull'iconcina e vediamo appunto che il nostro tema ha preso una struttura con dei dati nel footer, con i prodotti centrali e poi anche con uno slider qui al centro, qui in alto. Successivamente possiamo anche inserire una pagina, chi siamo, delle pagine istituzionali. Proviamo ad inserire appunto la pagina chi siamo che è molto importante, clicchiamo su Pages, sempre sotto Online Store e poi clicchiamo su Add Page. Una volta cliccato su Add Page inseriamo il titolo della pagina, successivamente possiamo anche inserire il testo che ci sarà, che verrà mostrato all'interno della pagina. In questo caso inseriamo un testo di default, di standard, ovviamente deve essere un testo che descriva la storia dell'azienda, che descriva cosa rende unici i tuoi prodotti rispetto a quelli della concorrenza e che cosa ti differenzia e eventualmente mostri anche il team. Quindi come vedi qui puoi andare a modificare, puoi mettere dei grassetti, puoi mettere dei corsivi, sottolineato, puoi anche andare a inserire degli elenchi puntati e puoi anche appunto mettere dei titoli o dei sottotitoli e poi inoltre anche inserire delle immagini. Inseriamo per esempio cliccando qui un'immagine aggiuntiva, clicchiamo su Upload File e inseriamo un'immagine dimostrativa del team. Clicchiamo successivamente su Insert Image, possiamo scegliere la grandezza e inserire un Alt Tag che serve appunto per l'ottimizzazione SEO delle immagini e facciamo clic su Insert Image. Per centrarlo selezioniamo l'immagine, clicchiamo su Edit Image e selezioniamo Alignment al centro, quindi centrato. Effettuato questo possiamo successivamente nel campo SEO andare a modificare invece gli elementi SEO, quindi Meta Description e il title che magari in alcuni casi non sono corretti perché sono generati in automatico. La visibilità, lasciamo la pagina visibile e clicchiamo su Save. Una volta cliccato su Save possiamo cliccare su View Online Store e possiamo vedere la pagina che abbiamo creato, come compare. Oltre a questo c'è anche la possibilità di inserire dei post di un blog e questi sono molto importanti. Ti consiglio di vedere gli altri video dove mostriamo i vantaggi che hanno i blog e perché dovrebbero essere utilizzati anche all'interno di un e-commerce, quindi clicchiamo su Blog Post e clicchiamo su Create Blog Post. Quindi abbiamo la possibilità già all'interno di Shopify di creare un blog post, un articolo di un blog. Per fare questo inseriamo per esempio il titolo, quindi può essere in nostro caso una guida rapida alla personalizzazione delle magliette e poi inseriamo anche una descrizione. Quindi una descrizione in questo caso è il contenuto dell'articolo. Successivamente possiamo anche inserire un riassunto che sarà un riassunto che compare nella pagina del blog o nella home page dove viene mostrato il titolo e l'immagine in evidenza e possiamo anche modificare gli elementi SEO, quindi il meta tag e il meta description e andare a renderli molto più interessanti, molto più ottimizzati per i motori di ricerca. Possiamo selezionare l'autora, possiamo selezionare il blog dove inserire l'articolo e creare eventualmente anche un nuovo blog, lasciamo news, possiamo inserire eventuali tag che possono essere interessanti per organizzare gli articoli e in questo caso mettiamo per esempio magliette personalizzate e possiamo inserire un'immagine in evidenza, un'immagine in evidenza che potrebbe essere un'immagine dimostrativa appunto del nostro articolo descrittiva che descrive in maniera visuale il nostro articolo. Selezioniamo Visible come visibilità e clicchiamo su Save. Fatto questo possiamo cliccare su View Online Store e possiamo vedere come compare il nostro store e come compare il nostro blog post che abbiamo appena creato. Oltre a questo, quindi dopo aver creato il blog post e anche le pagine, come avrai visto all'interno dello store, il menu in alto non ha ovviamente gli elementi corretti. Per fare questo dobbiamo entrare in Navigation, dobbiamo entrare in Main Menu che è il menu in alto e aggiungere degli altri elementi. Clicchiamo su Add Menu, clicchiamo su Link e selezioniamo per esempio tra le pagine la pagina Chi Siamo e clicchiamo su Add. Poi successivamente selezioniamo sempre all'interno il link invece la categoria Blog, quindi in questo caso News noi la chiameremo Blog e possiamo inserirla e eventualmente modificare anche la sua posizione, quindi inseriamo, prendiamo e trasciniamo e inseriamo sotto l'elemento Home, quindi sotto l'elemento del menu Home e in modo tale che abbia l'ordine che più ci interessa. Clicchiamo su Save Menu, una volta fatto questo potremo vedere che il nostro menu in alto ci mostra la nostra pagina Chi Siamo e ci mostra anche il blog con l'immagine in anteprima. Fatto questo, lo step successivo molto importante ovviamente all'interno di un sito e-commerce è gestire i pagamenti. Per gestire i pagamenti dobbiamo andare all'interno di Settings e configurare i pagamenti che vengono gestiti, quindi le modalità di pagamento. Andiamo all'interno di Payments e poi vediamo qui all'interno che ci è già stato assegnato, questo viene effettuato di default da Shopify quando si crea un account, ci è già stato assegnato una sorta di account Paypal Express Checkout associato al nostro indirizzo email che abbiamo utilizzato in fase di registrazione. Questo cosa succede in questo caso? Quando viene effettuata la prima vendita, in quel caso Paypal ci invia a quell'email che abbiamo inserito in fase di iscrizione a Shopify le istruzioni per creare il nostro merchant account e quindi poi prelevare il denaro. Quindi di default abbiamo già la possibilità di utilizzare Paypal Express Checkout. In alternativa Shopify mette a disposizione diverse altre modalità di pagamento, diversi altri gateway di pagamento, tra i quali molti disponibili anche in Italia, come per esempio JustPay, Money, WorldPay e Skrill che possiamo utilizzare e configurare per avere appunto un sistema di pagamento adeguato all'interno del nostro sito e-commerce. Sicuramente in fase iniziale Paypal è più che sufficiente. Per fare questo ovviamente possiamo successivamente anche andare a modificarlo. Torniamo all'interno di Settings e in questo caso andiamo in Shipping, cioè nelle modalità di spedizione, quindi nei costi e nella gestione delle spedizioni. Vediamo all'interno che Shopify di default inserisce dei scaglioni di costi di spedizione in base ai kg, in base al peso complessivo della merce acquistata e ha inserito due scaglioni per le spedizioni domestiche, quindi le spedizioni nazionali. Possiamo modificarle cliccando su Edit e possiamo rinominare per esempio Spedizione Nazionale e lasciamo ovviamente l'Italia come paese di spedizione, possiamo andare ed eventualmente a eliminare gli scaglioni che ha creato in questo caso Shopify, quindi aggiungere noi degli scaglioni in base al peso oppure semplicemente aggiungere degli scaglioni in base al prezzo. Quindi su Add Prices, su Price Based Rates inseriamo per esempio una spedizione gratuita, quindi possiamo inserire la spedizione gratuita con un minimo d'ordine di 100€ e clicchiamo su Free Shipping Rate e clicchiamo su Done. In questo caso abbiamo una spedizione gratuita sopra i 100€, sotto i 100€ possiamo inserire una spedizione standard con un limite di appunto 99€ e in questo caso possiamo assegnare per esempio come costo di spedizione 10€, così abbiamo uno scaglione da 0 a 99 di appunto 10€ e dai 100€ in poi invece gratuita. E possiamo effettuare questo tipo di modifiche. In aggiunta possiamo anche andare a modificare le province dove viene effettuata la spedizione e magari deselezionare delle province dove non effettuiamo la spedizione. Così come possiamo deselezionare le province all'interno del paese e della nazione Italia, possiamo anche successivamente, dopo aver cliccato Save, possiamo anche andare a modificare invece un'altra zona di spedizione che viene creata da Shopify, che è il resto of the world, quindi il resto del mondo e che è una zona appunto standard. In questo caso possiamo per esempio andare a modificare i paesi dove viene effettuata la spedizione, quindi possiamo selezionare eventualmente dei paesi in particolare, oppure possiamo semplicemente eliminare la zona, quindi Delete Shipping Zone, cliccando su Delete e aggiungere una zona magari specifica. Quindi se ci interessa per esempio vendere negli Stati Uniti, facciamo Add Country, facciamo Spedizione Stati Uniti e in questo caso aggiungiamo come paese di riferimento, cerchiamo United States e lo aggiungiamo e possiamo successivamente inserire gli scaglioni, come abbiamo visto prima, per peso o per prezzo. Ora che abbiamo creato, abbiamo inserito sia le opzioni di pagamento che di spedizione, creato le pagine e tutto il resto, quello che dobbiamo fare successivamente è aggiungere un dominio personalizzato, quindi come vedrai ovviamente tu non vuoi avere TrendyStoreItalia.myshopify.com, ma vuoi avere un tuo dominio come TrendyStoreItalia.com. In questo caso selezioni sotto Online Store Domains e successivamente vai su Buy New Domain oppure Connect Existing Domain. Se hai già il dominio puoi cliccare su Connect Existing Domain, altrimenti se vuoi acquistare un nuovo dominio puoi acquistarlo direttamente qui dentro Shopify. Cliccando su Buy New Domain puoi cercare in tempo reale all'interno di Shopify la presenza del tuo dominio, quindi inseriamo per esempio TrendyStoreItalia e vediamo che questo tipo di dominio viene cercato se è disponibile o meno, vediamo che per esempio non è disponibile, quindi se inseriamo un numero vedremo in questo caso con un altro valore che è disponibile possiamo già direttamente qui effettuare l'acquisto anche della estensione .it oltre che della estensione .com e viene associato in automatico. Bene, ora che abbiamo creato il nostro store completo possiamo visualizzarlo e vediamo come abbiamo un e-commerce fatto finito, una base di e-commerce fatta finita sulla quale poi possiamo effettuare ulteriori personalizzazioni. Vediamo le schede prodotto con le diverse taglie, vediamo anche la possibilità di modificare appunto le taglie, di aggiungere al carrello, di effettuare il checkout con Paypal, di effettuare il pagamento, insomma abbiamo anche poi una sezione blog, una pagina chi siamo, abbiamo il footer, abbiamo gli elementi social, quindi abbiamo la possibilità di inserire i nostri elementi social e abbiamo anche appunto tutte queste opzioni già inserite. Oltre a questo, questo da qui vediamo come con Shopify è molto semplice realizzare un proprio e-commerce, ovviamente ci sono tantissimi altri aspetti che non abbiamo coperto in questo video, per esempio la gestione delle applicazioni, quindi in questo caso ti consiglio di andare su App e visitare l'App Store per poter aggiungere ulteriori funzionalità al tuo e-commerce, quindi poter aggiungere ulteriori funzioni o ulteriori applicazioni all'interno per utilizzare tante altre funzioni e poter sviluppare al meglio il tuo e-commerce. Questo video ovviamente non voleva essere omnicomprensivo di tutte le informazioni e di tutto ciò che serve per poter realizzare un e-commerce, perché sicuramente lo sviluppo di un e-commerce richiede veramente tanta formazione e tanto know-how, però voleva essere un riassunto molto breve, molto semplice, un tutorial che mostra come utilizzando gli strumenti adeguati, le strategie adeguate, si può realizzare un e-commerce in maniera anche semplice e veloce, senza delle conoscenze di programmazione o delle conoscenze tecniche particolari, proprio grazie agli sviluppi di queste piattaforme online che sono nate appunto negli ultimi anni. Grazie a tutti!